Preghiera del mattino O Dio, aiutami quest'oggi a riconoscere il tuo spirito distinguendolo dagli altri spiriti che agiscono nel mondo. È lo Spirito Santo che ci fa tuo santuario. La Pentecoste permanga sempre in me e accresca i frutti dello Spirito. Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Amen Grazie